E siamo vicino a uno dei simboli di Pesaro, la palla di pomodoro e abbiamo chiesto ai pesaresi che cosa hanno fatto durante questa giornata di festa. Bicicletta, sì, siamo venuti a vedere la spiaggia. Una bella giornata di sole, c'è tutto, non ci manca niente oggi. Godersi lo spazio all'aperto, però appunto in sicurezza, infatti siamo rimesse subito le mascherine. Faremo una camminata, però non abbiamo progetti in particolare. Sono stati due mesi pesanti a casa, però dai, adesso siamo di nuovo in libertà con le dovute restrizioni. Facciamo questo solo e basta, non c'è tanto da fare. Che cosa ha preparato se lo possiamo fare? Eh, oh, i giocchini di vino, i ravioli, e poi basta, e poi un po' di carne. Proprio a presente, quando uno se la prende proprio, dice come viene, viene la giornata, così. Poi ci permette il tempo, va bene. Cene in famiglia. Sì, cene in famiglia, sì. Pizza. Sto facendo una camminata in piaggia, però ho visto che c'è poca gente, non c'è nessuno. Non so il motivo, la gente che dorme ho paura che c'è il virus. Abbiamo fatto una colazione al bar, facciamo una passeggiata e poi rientriamo a casa. Siamo partiti prestissimo alle 6, quindi non c'era neanche tanta gente in giro, ed è veramente piacevolissimo. Adesso andiamo a casa, perché poi abbiamo in previsione di fare un'altra passeggiata, però in montagna, oggi pomeriggio. Oggi pranzo al mare. Sì, sì. Facciamo una passeggiata, ne approfittiamo del bel tempo. E' stato un po' l'allenamento che fa bene. Grazie a tutti.